Come eseguire le commande su Ansible Host? Sì, ho scelto correttamente, Ansible Host, che è il controllatore o il host locale, dal perspectiva Ansible. Quando si è famiglia con Ansible, si inizia a usare più e più. E quando Ansible diventa parte del vostro lavoro per voi è natura che vorresti automare le tasche anche nella vostra macchina locale. Vi mostrerò una demo live con alcuni codici di Ansible. Sono Luca Berton e benvenuti in oggi l'episodio di Ansible Pilot. Ci sono principalmente tre mani di eseguire moduli e le commande su Ansible Controller Host. Il primo, e il mio favorito, è l'utilizzo il plug-in connexion local, che si applica sul livello di Ansible Play del vostro playbook. Il modo strictero è di aggiungere alcune variabili di Ansible variabili su Python Interpreter, ma lo considero ancora il migliore il migliore di oggi. Il secondo è di usare l'estate delegate underscore to a livello di task. Questo ha l'avventaggio di delegare solo un task a localhost o a qualsiasi host che bisogna, ma ancora bisogna compilare l'implicitata localhost e il terzo modo è di usare l'estate local underscore action. Io personalmente non mi piace, ma è un'alternativa anche, lo stesso come i primi, al livello di task. Quindi, un piccolo recap, preferisco che il plug-in connexion rende tutto più giusto e se bisogna aggiungere più task al livello stesso livello, non è messo il tuo codice. Il tempo di demo, vi mostrerò come eseguire le commande su Ansible usando il metodo di plug-in connexion un plug-in metodo. Aspetta un minuto, vorresti di profondare su questo tema? C'è una documente sulle delegazioni, localizioni e alcuni esempi nella documentazione ufficiale e sable. Mi piace davvero questa section e credo che il team ha fatto un buon lavoro per raccontare questa cosa. per esempio per il playbook local come potete vedere la connexion locale quindi andiamo a profondare su questo tema. Benvenuti al mio editor vi mostrerò un playbook semplice per eseguire le commande su Ansible host. Prima di tutto cominciamo il playbook con un play chiamato demo localhost che taglia host localhost questo è il nome host che potete anche usare l'addressa ip ma ho trovato più conveniente. la parte strana è questa definita due variabili la prima è Ansible connexion locale e la seconda è l'interpreter ansible python l'interpreter che bisogna sbagliare con il valore di ansible l'interpreter ansible l'interpreter ansible l'interpreter ansible l'interpreter ansible l'interpreter playbook l'interpreter questo è molto importante altrimenti potete avere alcuni problemi il più facile ora possiamo eseguire la nostra lista normale il più facile è imprimere il nome quindi usiamo l'ansible built-in debug modulo questo è il modulo per imprimere variabili e il messaggio sarà il valore di il mio ansible variabile inventory underscore hostname quindi questo è il nome nell'invento non il hostname come potete vedere ci sono molti interni ansible connessione ansible python interpreter ma questa è la migliore combinazione per fare cose semplicemente su localhost e benvenuti al mio terminal ora vediamo se tutto fa sentido mi eseguire l'ansible playbook con ansible-playbook e il passaggio il mio playbook è l'eseguzione sarà super velo e grazie ansible mi ricordi che localhost non è parte di tutto e come potete vedere si eseguita contro localhost target e il risultato è il messaggio localhost su signore cosa succede se eseguitiamo di nuovo stessa storia abbiamo il risultato quindi questa propria è chiamata potenza dell'ansible playbook ora demystificiamo l'ansible internale per usare la connessione è un po' è un po' tricky ma quando ho bisogno ho bisogno di fare copia e automata anche sui macchini yeah good job ansible now you know how to execute command on the ansible host or controller controller if you enjoyed this video give me a thumbs up write me a comment and in general keep in touch with me see us on the next adventure of ansible pilot and have a great day this video is part of our ansible automation program sign up today on www ansiblepilot.com for uninterrupted exclusive video and so much fun